Allo stand Moto Morini una delle sicure protagoniste è la Milano che reinterpreta in chiave moderna uno dei miti del passato, la 3,5 degli anni 70. Questo stile un po' particolare è stato disegnato da Angel Luciana e nonostante l'ispirazione retro non mancano contenuti moderni come ad esempio il display TFT da 5 pollici con grafica dedicata. A livello meccanico abbiamo un motore bicilindrico a V corsa corta di 87 gradi 1200 centimetri cubi firmato da Franco Lambertini lo stesso progettista della 3,5. Questo motore eroga 110 cavalli. A livello ciclistico abbiamo un telaio a traliccio in acciaio e una ciclistica di primordine con sospensioni completamente regolabili che completano il pacchetto di questa moto. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati dichiarati.